L'amministrazione comunale di Modica, con una determina del 21 dicembre del responsabile dell'ottavo settore, avrebbe avviato in maniera anomale e con atti nulli il percorso che porterà all'esternalizzazione del servizio dei parcheggi a pagamento ad un soggetto privato. A sostenerlo Salvatore Terranova della CGL, che punta il dito contro il percorso avviato senza la prevista concertazione col sindacato e con quelle che Terranova definisce modalità amministrativamente strampalate e strane. Intanto, spiega Terranova, la determina risulta firmata da una posizione organizzativa, che da diversi mesi non è più irresponsabile del settore, essendo stato sostituito da un'altra in qualità di comandante della Polizia Municipale. In secondo luogo, la determina richiamerebbe il contenuto di una precedente deliberazione del Consiglio Comunale, all'interno della quale si fa riferimento alla possibilità di promuovere un project financing, mentre la determina intende realizzare, solo ed esclusivamente, l'aggiudicazione del servizio ad un soggetto privato, mediante procedure aperte e all'offerta economicamente più vantaggiosa. Com'è possibile, quindi, si chiedono dalla CGL, che si richiami un atto precedente, quando con quest'ultimo il Consiglio Comunale decise allora di realizzare ben altra cosa. Il sindacato proclama lo stato di agitazione del personale dipendente e comunica che nei prossimi giorni saranno attivate misure di lotta più incisiva per titolare i legittimi interessi dei lavoratori, che rischiano grosso con quest'operazione di privatizzazione. L'ispiegabile scelta dell'amministrazione denunciano dalla CGL, da un lato produrrà l'effetto di disfarsi di un servizio altamente remunerativo e dall'altro metterà in reale rischio la tutela occupazionale degli operatori. Per tali motivazioni, il sindacato chiede all'amministrazione di sospendere tutto, convocare le parti e discutere seriamente di un servizio che è redditizio per il Comune.